Ciao, sono Marco e nel video di oggi andremo a vedere un tema child per Divi chiamato Consulting. Nei video precedenti, che trovi in parte qua sopra e gli altri all'interno del mio canale, siamo andati a conoscere un po' più da vicino uno tra i più popolari temi per WordPress, appunto Divi. Siamo andati a vedere il suo sito per capire quali sono le sue funzionalità, il suo costo, come ottenere supporto. Abbiamo provato live il page builder di Divi, quindi per capire proprio come utilizzare questo strumento per andare a creare le pagine del nostro sito, quindi quello che sarà poi il nostro sito completo. Ci siamo successivamente soffermati sulla vasta libreria di layout messa a disposizione da Divi, dove possiamo con pochi semplici clic importare un singolo layout da utilizzare per il nostro sito quindi avere una pagina di template da utilizzare per una o più pagine nel nostro sito oppure importare addirittura un pacchetto di layout e avere di fatto in mano quello che è un sito pronto ovviamente da sistemare e da aggiustare con immagini e testi. Dopo ancora siamo andati a esplorare quello che è il marketplace di Divi, ovvero tutti quegli autori di terze parti, quindi stiamo parlando di aziende, di sviluppatori che hanno deciso di costruire strumenti aggiuntivi, quindi temi child come nel caso del video di oggi o estensioni, stiamo parlando quindi di plug-in, che gravitano tutto intorno a Divi. A questo punto direi di non perdere altro tempo e andare a vedere questo tema child per oggi che appunto ci può consentire nuovi sviluppi da utilizzare per i nostri siti o siti di nostri clienti. Direttamente dal sito ufficiale di Divi, dal marketplace, troverai comunque poi il link qua sotto in descrizione, arriviamo a vedere questo tema child appunto per Divi consulting. Iniziamo col dire che questo tema ha un costo di 59 dollari e 99, nel momento in cui stiamo registrando questo video è però in sconto e ha un costo di 44 dollari e 99. Ricordo come abbiamo già detto per altri video, per altri temi presenti sul mio canale che abbiamo visto di Divi, questi temi child non hanno limiti di licenza di utilizzo, possiamo quindi installare questo tema su quanti siti noi vogliamo. Inoltre compreso nel prezzo abbiamo un anno di supporto ed aggiornamenti. Direi a questo punto di passare immediatamente a quella che è la demo. Abbiamo subito in apertura della pagina una prima sezione dove abbiamo quello che potrebbe essere un claim o un testo comunque introduttivo che può spiegare che cosa riguarda. Ricordo che è un tema che riguarda la vendita di consulenze o comunque di servizi. Può essere utilizzato un po' per questi due macro gruppi. Sulla destra, sempre dalla prima sezione, abbiamo una mail di contatto e eventualmente un numero di telefono. Scendendo ancora sotto, in questa sezione qua, diciamo un po' di mezzo, abbiamo dove si trovano magari i nostri uffici e gli orari di lavoro, mentre invece sulla sinistra abbiamo quello che è il logo, il brand della nostra azienda. Abbiamo poi l'home page, abbiamo diverse demo per l'home page, vediamo se riusciamo a vederle. Abbiamo poi quello che è il menu con le diverse pagine interne. Abbiamo profili social e successivamente abbiamo subito già nel leader, quindi nella prima parte del menu, nella prima parte della pagina, una call to action dove possiamo o richiedere un appuntamento telefonico o magari richiedere un preventivo, dipenderà poi dalla nostra realtà naturalmente. Scendendo in basso, intanto possiamo notare il bell'effetto che ha il menu, da occupare una posizione flottante nella pagina, va a posizionarsi in alto bloccato e ad allargarsi a prendere tutto il resto della pagina. Scendendo comunque abbiamo questo primo slider dove abbiamo delle immagini naturalmente di sfondo per questo slider e per ogni slider abbiamo del testo e un bottone che può rimandare ad una sezione più in basso della home page oppure decidiamo noi potrebbe anche mandare a una pagina interna o dove desideriamo. Scendendo ancora abbiamo una prima sezione di quello che potrebbe essere il chi siamo o comunque una spiegazione della nostra azienda o del tipo di consulenze, quindi che cosa offriamo, potrebbero anche essere perché no dei servizi subito che noi mettiamo in evidenza, quindi abbiamo comunque del testo iniziale, abbiamo poi suddiviso in tre colonne appunto quelli che possono essere servizi, processi di lavoro oppure come abbiamo detto prima formati comunque tutti da un'immagine con un bellissimo effetto over quando passiamo sopra col cursore del mouse dove l'immagine viene opacizzata e abbiamo naturalmente quello che può diventare un link, un nome, un titolo e del testo e poi eventualmente anche il bottone per leggere di più, per saperne di più. Scendendo ancora abbiamo una sezione con il cosa facciamo, quindi abbiamo sulla destra del testo di quello che appunto come opera questa azienda, che cosa fa, abbiamo eventualmente due bottoni da poter aggiungere, sulla sinistra abbiamo un'immagine naturalmente di quello che può essere il team, anche questa con un bel effetto over e con un contatore di per esempio quelli che sono gli anni di questa attività, di questa realtà. Scendendo ancora troviamo suddivisi in tre colonne altri, quelli che possono essere diciamo i servizi da offerti, cioè quindi i tipi di consulenze magari che possiamo offrire, per ogni servizio abbiamo un'iconcina, abbiamo un effetto over che va a sottolineare quello che è questa consulenza, questo servizio, poi abbiamo un nome di quella che è la consulenza e un breve testo che spiega di che consulenza si tratta o che cosa possiamo offrire. Scendendo ancora abbiamo una sezione con contatori, quindi in questo caso divisa in quattro colonne con quattro contatori, possiamo indicare quelli che possono essere il numero dei nostri clienti, il numero di lavori eseguiti, i numeri di premi o degli obiettivi raggiunti, insomma possiamo sbizzarrirci secondo quelle che sono le nostre necessità. Scendendo ancora arriviamo alla sezione del team, quindi abbiamo suddiviso in tre colonne per ogni persona facente parte del team, abbiamo la foto messa di profilo oppure di fronte, tutta scontornata e sotto la foto abbiamo il nome e diciamo il ruolo ricoperto e i suoi profili social. Scendendo ancora abbiamo una call to action un po' diverso dal solito, non abbiamo fondamentalmente soltanto del testo e un bottone ma abbiamo una form dove inserire il nome, l'indirizzo e mail, diciamo l'oggetto, quindi il perché per esempio abbiamo necessità di questa telefonata e il numero per essere ricontattati. Poi scendendo ancora abbiamo un'altra sezione relativa a quelle che possono essere diciamo del flusso di lavoro, qua abbiamo addirittura un grafico quindi comunque possiamo mettere un'immagine esplicativa o un grafico di quelli che sono magari i nostri risultati, quello che abbiamo ottenuto, sulla sinistra abbiamo il del testo con quello appunto che potrebbe essere il nostro flusso di lavoro, quindi capire per esempio qua il testo indica come esempio, capire qual è il problema, ricercare, fare analisi, dare supporto e arrivare al risultato. Scendendo ancora abbiamo una pricing table suddivisa in quattro colonne, per ogni per ogni colonna come potete vedere anche qua abbiamo un bel effetto over dove compare l'ombra sotto e la diciamo viene spostata un po' più in alto la tabellina quindi viene messa un po' più in risalto, abbiamo per ogni pricing table il nome diciamo quindi il nome del servizio, il prezzo e sotto i servizi e le consulenze che vengono offerte. Abbiamo poi il bottone per poter richiedere magari questa consulenza. Scendendo ancora abbiamo gli ultimi progetti che possono essere, gli ultimi progetti che abbiamo svolto che possono essere anche filtrati quindi abbiamo dei filtri per questi progetti oppure li possiamo vedere tutti quanti. Per ogni progetto abbiamo la foto, diciamo una foto rappresentativa di quello che è stato il lavoro, il progetto e andando sopra con il mouse abbiamo il nome del progetto, la quella che è la categoria per il filtro che abbiamo visto poco poco fa e quello che è il link al singolo progetto. Scendendo ancora abbiamo le testimonianze relative ai nostri clienti quindi abbiamo cosa dicono i nostri clienti e per ogni testimonianza abbiamo una foto della persona che lascia la testimonianza, il nome di che cosa si occupa e subito sotto la testimonianza. Abbiamo anche qua l'effetto over che tira fuori diciamo le virgolette della testimonianza. Scendendo ancora abbiamo le ultime notizie dal blog quindi suddiviso in tre colonne abbiamo immagine in evidenza dell'articolo, la data che è tra l'immagine e la parte sottostante, il titolo dell'articolo, la categoria e i commenti e la prima parte dell'articolo, poi abbiamo il bottone legge ancora. Abbiamo ancora la sezione relativa ai partner o i brand quindi qua possiamo inserire quelli che sono i nostri partner o brand o nostri clienti con il quale abbiamo collaborato quindi anche una sorta di portfolio. Abbiamo qua un'altra call to action prima di arrivare diciamo a quella che è la fine della home page dove abbiamo del testo e un bottone che rimanda appunto a quella che è una call to action. Arriviamo a quello che è il footer suddiviso in di fatto in tre zone, la prima zona suddivisa a sua volta in quattro colonne dove abbiamo una prima colonna dove possiamo inserire le nostre informazioni quindi nuovamente numero di telefono, email e altre informazioni, poi due colonne con link utili o ultime notizie anche qua dal blog e un'altra colonna con quelli che sono gli orari di lavoro. La seconda porzione del footer, abbiamo di nuovo numeri di telefono, profili social e iscrizione a newsletter e chiudiamo con quelli che sono copyright e in fondo abbiamo ancora un altro menu con le domande frequenti, help desk e supporto. Ovviamente tutto quanto personalizzabile. Andiamo a vedere un attimo il singolo servizio per capire anche come può essere strutturato il servizio o appunto quelle che possono essere le consulenze per esempio. Andiamo a vedere quindi il singolo servizio, abbiamo sempre il nostro leader come in precedenza, abbiamo il nome del singolo servizio, poi sulla sinistra della pagina abbiamo un diciamo un sottotitolo e poi iniziamo con del testo, quindi delle descrizioni, abbiamo delle immagini di quello che può essere il nostro servizio, abbiamo anche delle tab che suddividono sempre per dare informazioni in più, sotto abbiamo due box che possono indicare due tipologie di prodotti acquistabili con questo servizio, abbiamo delle domande frequenti quindi molto ben strutturato, una pagina assolutamente descrittiva e in più abbiamo anche una sidebar di destra dove abbiamo l'elenco di tutti i servizi per esempio come mettersi in contatto con noi o altre informazioni relative magari a questo servizio. Andiamo a vedere ancora per esempio un altro esempio quello che è per esempio il caso studio quindi quello che potrebbe essere il nostro portfolio o i lavori che abbiamo fatto ecco tanto per dare un'idea ai nostri clienti anche qua abbiamo il nome del caso studio, scendendo sotto abbiamo un sottotitolo del testo, quindi un testo descrittivo e sotto abbiamo ancora dei dettagli quindi chi era il cliente, dove è stato effettuato questo servizio, questa consulenza, la data di quando è iniziato, quando è stato completato, diciamo il valore quindi possiamo anche attribuire un valore a questo lavoro, la categoria quindi che categoria fa parte e sotto ancora abbiamo un'altra tab con quelle che possono essere altre informazioni aggiuntive. Sulla destra sempre abbiamo la nostra sidebar dove possiamo mettere per esempio altre categorie dei casi studio quindi altri lavori e altri widget diciamo a nostra scelta. Bene ci siamo fatti un po' un'idea di questo secondo me enorme tema che avete a disposizione un sacco di un sacco di possibilità per appunto per varie attività che possono venire bene per noi e per i nostri clienti. Quello che ti resta a questo punto da capire è soltanto se questo tema può fare al caso tuo di un tuo cliente ed eventualmente procedere quindi con l'acquisto. Bene mi auguro che tu abbia trovato utile questo video se comunque hai dei dubbi o hai delle domande lasciamolo scritto qua sotto nei commenti in modo tale che io possa esserti d'aiuto per quanto possibile. Se ancora invece stavi cercando qualche approfondimento relativo al mondo wordpress e commerce, temi, plugin, divi, elemento e spulciando all'interno del mio canale non hai trovato quello che stavi cercando lasciamelo anche questo scritto qua sotto così che magari io possa trovare qualche altro nuovo spunto o qualche altra nuova idea per qualche altro video di informazione proprio come quello che hai visto adesso. In ogni caso comunque se questo video ti è piaciuto metti mi piace attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video ciao